I Vigili del Fuoco avranno la loro nuova caserma nell'area del Tribunale di Castrovillari. Un vero e proprio evento, quello sancito dalla sottoscrizione della Convenzione tra l'Amministrazione Comunale e il Ministero dell'Interno per la concessione del suolo comunale dove la nuova struttura dovrà essere edificata. Un progetto che rende giustizia alle esigenze e al grande lavoro che i Vigili del Fuoco svolgono quotidianamente. Oggi è un momento particolarmente importante perché in tutte le difficoltà che ci sono negli iter che poi portano alla realizzazione di nuovi immobili abbiamo superato uno dei più importanti cioè quello della disponibilità del sito che spesse volte è motivo di blocco e di rallentamento soprattutto quando ci sono espropri o altre situazioni che possono essere poi oggetto di contenziosi e portano poi tante volte a far stagnare le idee progettuali e a rallentare il processo. Noi questo lo abbiamo superato e quindi siamo ben contenti di averlo raggiunto. questo primo obiettivo. Svolgono una funzione fondamentale perché sono presenti su tutto, su qualunque settore di intervento loro sono sempre presenti e disponibili. Una sede adeguata penso che sia necessario anche, ovviamente non parliamo di Cassoville, io parlo sempre in termini di territorio, anche per un incremento ove possibile pur con le difficoltà che tutti i ministeri svolgono o hanno, un incremento dei servizi e delle attività.